Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video su Apex Legends, come sempre vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale. Buona visione! Apex Legends Apex Legends Apex Legends Apex Legends Apex Legends Apex Legends Apex Legends